Allora, ho l'onore di rincontrare casualmente, ma forse non troppo, il principe Carlo Carpinelli, perché gli incontri non sono mai casuali, vero Carlo? C'è sempre un destino, un buon appinaio. Buongiorno, io mi ricordo l'ultima volta ho fatto il saluto agli amici e i gruppini e ho avuto il desiderio di un bel ricordo, che è quello di lavorare con tanta armonia, simpatia e soprattutto professionalità. Senti, io so che hai in mente una riforma calcistica che potrebbe veramente cambiare le sorti del calcio internazionale. Allora, io dico che oggi come oggi bisogna un pochino specchiare il sistema, perché c'è bisogno di trovare alcune soluzioni alternative rivolte al settore, in particolar modo giovanile, in quanto io devo tutto tantissimo a tanti cari amici, come stavo dicendo prima, circa due anni fa ebbi l'onore di essere ospite al Giro d'Italia, che quest'anno è stato sempre un momento molto bello e favorevole nel ciclismo italiano, e ho avuto il piacere di conoscere di tanti maestri del calcio, tieni presente che sono già vent'anni che non abbiamo più un grande uomo come Mario Frustalupi, Il grandissimo Mario Frustalupi, eccellente, proprio lui dal semplice modo di giocare, stile Pelè insomma, che aveva dei palleggi incredibili. Insomma, questo avvocato, come stavo dicendo, Claudio Pasqualin, mi disse che dovevo inserirmi nel mondo del calcio. Io, sai, sono come Filiberto, come il famoso Filo, che mi disse a suo tempo, gli dico, avvocato, guarda, io prima di dire no ci penso mille volte, ma sicuramente avremo l'onore e il piacere di rincontrarci e di parlare di qualcosa di buono. Infatti all'inizio dell'anno, sai, casi della vita, insomma, no? Come tante volte mi dicono, è quel detto antico di andare, e adesso, ma come mi ricordo più, comunque gli antichi romani dicevano Nemos, profete in padre, no? Il famoso Nemos, alla ricerca di Nemos, film spagnolo di Walt Disney. Ecco, anche su Walt Disney c'è un'idea, cioè che poi avremo modo di parlare quanto prima con i nostri radioascoltatori. Lei mi diceva di Mario Frustalupi, della polvere, del... Sì, dal niente, dal niente lui, da ragazzo, da giovane, ebbe l'onore di partire e di fare qualcosa di bello, perché aveva il grande dono di giocare a pallone, ma non solo, di stare anche a contatto con questo simbolo, che è l'Italia, un'Italia bella, stupenda, meravigliosa, dove lui ha avuto l'onore di fare dei provini di calcio e pare che anche nella Lazio abbia giocato. E io mi sono ripreso un po' alla storia, ai grandi uomini di una certa epoca, da Chinaglia, a Fustalupi, a Rivera, a questi che hanno dato anche un senso alla nostra coscienza umana e al nostro derby calcistico, perché in questo ultimo periodo si sta parlando molto di calcio mercato e a me mi dà molto fastidio che il calcio sia stato un pochino messo sotto tiro. Cioè, il calcio è cultura, è passione, è determinazione, è voglia di stringere, di darci uno su mille, e ce la fa, come disse a suo tempo. Lo imiti meglio, che lo sa imitare meglio il grande Morandi. Uno su mille se la fa, ragazzi, non è per essere scortese, ma la cosa più importante è dare di più. Infatti Gianni è diventato anche presidente del Bologna. E insomma, io quest'anno ho risentito l'avvocato, ci ho parlato, gli ho fatto gli auguri di questo nuovo anno, Happy New Year, l'anno del 2012, che sia un anno avvincente, un anno pieno di idee. Poi mi hanno detto che il 2012 l'hanno dedicato in particolar modo anche ai leoni. E io sono anche del leone. E pensa che la cosa più bella, più importante, è quella di trovare delle sinergie di mercato. E che cosa ho fatto? Ecco, ci dica... Di che è stata in particolar modo dedicata a un settore che... Ah, a che vedere, buongiorno signori. Questo è il rivoluzionario del calcio. E che è una situazione troppo bella, troppo indispensabile, troppo genuina, che è quella di riandare a vecchi tempo. Io mi sono ripreso in onore ai signori del calcio fiorentino. Infatti noi toscani siamo stati gli ideatori di questo calcio. Che poi in particolar modo c'è stato tutto un susseguirsi di squadre, come la Lazio stavo dicendo prima, che non era italiana, ma veniva dal Belgio, sui primi dell'Ottocento. E allora mi sono detto, ma è possibile che noi nel 2000... Buongiorno anche a questa signora e segua sicuramente in maniera positiva e non in negativa, perché anche stando qua a dubbio bisogna essere eccellenti. È come se io avessi l'onore e il piacere oggi, come oggi, che è esattamente il 24, anzi il 23, pardon, luglio 2012. Nonostante il tempo non lo dimostri, eh? Beh, comunque, è un onore e un piacere fare un saluto ai nostri radio telespettatori e speaker di tutto il gruppo del DRG e di quelli della notte, perché ho avuto il piacere l'attesia di stare in compagnia con il mio grande maestro Renzo Barbore, che da Napoli ha fatto in particolar modo un ringraziamento notevole a tutta la cittadinanza di Napoli e alla carzone partenopea, in particolar modo a Viva Napoli, insomma. Ecco, io che cosa ho fatto? Ho creato una mia idea, quella di fare un campionato di calcio provvedeutico rivolto al settore giovanile under 21 per vivere meglio, per giocare con più entusiasmo, perché credo che come abbiano fatto le femminucce in questo ultimo periodo, abbiano creato di questi nuovi campionati, anche noi maschietti non dobbiamo essere in disparte. Cioè, io credo che domani poter vedere sul campionato da, che ne so, l'Umbria contro le Marche, Sicilia contro la Sardegna o qualsiasi altra regione, sia un emblema importantissimo e fondamentale per grandi uomini, come il caro nostro onorevole, che è una persona simpaticissima, che io conobbi nel lontano 94, non vorrei essere sportese, l'onorevole e illustrissimo Mario Pescante, che mi disse, lei ha delle idee in testa che mi piacciono abbastanza. Ne ha poche, ma confuse. No, io ho delle idee che mi piace lavorare con i giovani, lavorare con dei ragazzi in gamba, stiamo facendo adesso una selezione accurata su tutti quanti, diciamo, i consigli regionali, infatti io devo parlare con ogni presidente di regione, perché c'è anche un certo concorso e anche una società in cui, a per vedere con il piano del bando legislativo, stiamo volendo, insomma, di fare un lavoro di squadra, perché la cosa più indispensabile è quella di avere sempre di più e trovare nuovi campioni, soprattutto italiani, ma non stranieri, perché purtroppo, oggi come oggi, l'Italia, da questo ultimo europeo, ci aspettavamo qualcosina più, abbiamo fatto il secondo posto. Buttelo via! No, io penso che la Germania è stata una squadra veramente da mille una notte, anzi, a proposito della Germania... Però gli è mancata l'ultima notte, diciamo. Sai, l'Antonio diceva, ma Carpinelli colpisce in pieno, Carpinelli a che vedere, cioè... Ah, che... Io, sai, poi tu il titolo lo farai come vuoi, ma comunque io sono uno che... Sono come Filiberto, se non lavoro non mi diverto, e ho a che vedere anche con gli amici della Germania, perché? Perché sto preparando il campionato, anche lì, un campionato mondiale di carpfishing che si terrà sul lago di Polsena e che verrà fatto a settembre. Ma carpfishing ha qualcosa a che fare con Carpinelli o... Parliamo... Anche lì, anche dagli anelli ai carpi, nel senso che... Certo. Tutta una storia riguarda a quel discorso che ti disse nel suo tempo. Quindi un campionato mondiale per pescatori tedeschi di carpfishing? No, è il campionato mondiale... A Bolsena. ...non solamente. I signori sono tedeschi, diciamo, chi li organizza. Ah, ho capito. Mr. Ross si chiama. Però io sono, diciamo, Arthur Egor per la pubblicità, per la promozione, per il Lafa, ci sono orientato dalla Versigliana, siamo stati in Versiglia, dove ho rincontrato il mio grande amico, il presidente, diciamo, più che presidente, il caro Romano Battaglia, che ogni anno segue alcuni amici. E guardi... Alla Versigliana sono andato anche al premio Bancaverde. Le do una brutta notizia, Romano Battaglia è venuto a mancare proprio ieri. Ma, bene, sono proprio... Quello mi rincresce moltissimo. Quello mi rincresce moltissimo, e guarda, te lo giuro che, caro Mattia, io sono di quest'idea che oggi come oggi bisogna sempre andare avanti, spingere ugualmente nei alcuni concetti indispensabili, importantissimi, che... trovare nuove sinergie. Senti, ma... Infatti, con il mio nome, che si chiama Carlo, io ho creato anche un premio, che si chiama il premio della Carliniana. Sì. Che era presentato, adesso quest'anno stiamo venendo, per il settore sportivo automobilistico. Perché ho tanti campioni, da tanti grandi maestri del rally italiano, e soprattutto di... Tutti della sua scuderia. Di alta eccellenza. Cioè, lei immagini che dovunque andiamo ci sono dei modelli unici al mondo. Non dico di una serie di 200 esemplari, che potrebbe essere una Ferrari, ma ci sono dei grandi amatori delle epoche indietro, dei carrozzieri, dei meccanici, grande uomo che non ho avuto il pregio di conoscere, ma si chiamava Sergio Pininfarina. Bene... Anche lui è venuto a mancare da poco, eh? Anche lui. Non è che lei è un po' un oiettatore, no? No, no, per carità. No, no, stavo sotto un cielo. Stavo scherzando. Quel cielo che l'ha abbronzata moltissimo, vedo, eh? Beh, gli impegni sono tantissimi. È da aprile che stiamo muovendoci per lungo e per largo in tutta Italia. Senta, ma... E mi auguro che possa avere un incontro, lo faccio presente anche alla stampa, perché tanto... Ormai ci dà questo scoop. Ci dà uno scoop e gioco la carta di stare a colazione con un grande amico che ho così a cuore, che si chiama Andrea Abbott. Ah, il grande presidente della Serie B. Della Serie B. Però poter fare un collegamento col CNI, Campionato Nazionale Interregionale, rivolto al settore giovanile. Propedeutico. Pro bravo, perché noi dobbiamo spingere ugualmente sempre un rapporto umano. Lei può riprendere questo simbolo, che vuol dire Italia. Vuol dire Italia. e l'Italia è bella tutta, dalle montagne, anzi mi sono dimenticato della Sardegna. È vero, manca, manca. Però ecco, sbagliano i predi, sbagliamo anche noi cristiani. È certo, certo. Senta, Principe, a proposito di Sardegna, la chiusura del billionaire, di Briatore, l'ha un po' rattristata? Io non per essere ignorante, perché vedi, bisogna avere avuto modo, comunque io l'ultima volta sono stato proprio al Twiga, dove ho dei grandi miei amici, e dove attualmente so che c'è la signora Daniela Santachè e altri colleghi che portano avanti il prestigio delle serate, del by night in Italia, con bei locali particolari, che abbiamo anche la compiacenza di poter fare delle belle serate a tema del cinema, della televisione, del teatro, dello sport. Non c'è solamente il discorso delle veline e del gioco del calcio, secondo il mio punto di vista, ma c'è bisogno di cultura, di folclore, di tradizione, di usanze particolari. Va bene, grazie Principe. Alla fine, un saluto agli amici di YouTube, di TRG, di RGM. Un saluto a tutto il calcio mondiale, perché credo che CNI non è una sciocchezza, ma una grande realtà. Bye bye e ci vediamo alla prossima. Grazie Principe. Ciao.